Il sindaco Carlo Colizza, l'assessore alla pittura Paola Di Peri, l'assessore all'attività produttiva Anna Santa Maita, vi danno il benvenuto alla 95esima edizione della Sagra del Giove di Marino. Siamo giunti al miracolo di questo non dico veggio, le fontane che danno io. Iniziamo a tutto la rivescia. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Grazie a tutti. 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 un altro mondo 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 un altro mondo